E' ricercato dalle ore 14 di ieri 11 luglio da polizia, carabinieri e polizia penitenziaria il detenuto di 21 anni, Salah Abu Khalil, evaso dalla casa circondariale San Donato di Pescara. Al momento dell'evasione il giovane indossava una maglietta blu a strisce e un cappellino con visiera. Ha approfittato dell'uscita all'aria aperta per fuggire e far perdere le proprie tracce. Era in carcere per una rapina compiuta a Roma per la quale era stato arrestato dalla polizia. La sua assenza è stata subito notata e l'allarme immediatamente è stato lanciato dagli agenti della polizia penitenziaria. 11 mesi fa San Donato era avaso un detenuto di 51 anni che poche ore dopo è stato rintracciato e riportato in carcere dagli agenti della volante. Sono scattate le ricerche e sono divampate anche le polemiche dei sindacati di polizia penitenziaria. Il SINAP è in una nota evidenzia che si tratta dell'ennesima evasione con modalità analoghe alla precedente dell'agosto del 2020. Giuseppe Mero, la coordinatore regionale funzione pubblica CGL Avruzzo e Molise giudiziaria, parla di situazione al collasso ed afferma che è inaccettabile quanto sta accadendo nel panorama penitenziario. Alla casa circondariale di Pescara è emergenza da fin troppo tempo, aggiunge, mentre il segretario generale del SAP Donato Capece afferma che la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza, spesso trascurate, con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria del carcere di Pescara. Abbiamo iniziato a denunciare tutte le carenze della casa circondariale pescarese dal maggio del 2019, afferma il segretario regionale dell'USPP Abruzzo Sabino Petrongolo, il quale sottolinea che si continuano a sopprimere e accorpare servizi che andrebbero invece coperti e presidiati. E conclude, sono passati 11 mesi e nel carcere di Pescara si registra una nuova evasione, perché la situazione è ormai ingestibile.